buongiorno a tutti come va spero bene e niente volevo volevo condividere una cosa molto veloce che adesso stavo uscendo per andare a fare una cosa e consiglio a tutti visto che c'è questa difficoltà nel momento in cui si esce di casa per i troppi stimoli eccetera di vestirvi il più neutrale possibile cioè per esempio questa qua in realtà è una tecnica che non è una tecnica una cosa che ho sempre fatto inconsciamente fin da quando sono ragazzina di non essere mai esagerata sotto nessun aspetto nel senso adesso per esempio mi stavo preparando per uscire e stavo pensando di mettermi un cappellino color militare il cappellino color militare in realtà io non me lo sono messo alla fine perché guardandomi allo specchio mi sono subito sentita un po' distonante diciamo da come sono detto dato che sono tutta vestita di nero a parte questa felpa qua grigia il fatto di mettermi il cappellino militare non c'entrava niente e subito e subito mi sono sentita a disagio nel percepirmi fuori di casa perché è già quel particolare che un po' è come lo so che sono sembrancavolate però è come quel particolare che è un po' di stona no e che potrebbe portare l'attenzione invece mettendolo nero è tutto un po' omologato e non 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 richiama l'attenzione e quindi ti senti più neutrale e di conseguenza ti senti più rilassata io faccio così praticamente è come se voglio portare l'attenzione solo su una cosa nel momento in cui esco di casa se per esempio devo stare in un contesto in cui ci sono persone che di solito ci sono sempre persone quando si esce di casa quindi è una cosa un po' che è un po' un discorso generale in un contesto in cui appunto io esco di casa in cui magari uno si potrebbe girare solo perché vede appunto sto cappellino per dire sì lo so ripeto sembrano cavolate ma cavolate non sono e io ci credo molto e mi sento molto più tranquilla facendo così comunque dicevo se una persona si gira solo perché appunto sapete quando vedete qualcosa di strano capita anche a noi no? quando vediamo qualcosa di strano un po' un po' disordinato non lo so comunque richiama la nostra attenzione la stessa cosa siamo noi se noi siamo disordinati o comunque abbiamo qualche elemento strano fuori posto richiama l'attenzione c'è poco da fare non perché le persone ce l'hanno con noi perché magari è proprio una questione di percezione quindi nel momento in cui siamo neutrali è tutto più anche la realtà prende un aspetto molto più tranquillo quindi non c'è gente che si gira guarda e quindi di conseguenza noi possiamo andare finalmente a fare quel compito e concentrarci su quello infatti io nel momento in cui esco di casa voglio fare una cosa voglio portarla a termine voglio tornarmene a casa non voglio stare lì a preoccuparmi di quello che si gira che guarda poi tu devi chiedere ma c'è qualche problema ma perché si gira ma che cacchio vuoi cioè non voglio entrare in queste dinamiche quindi ovviamente capiterà lo stesso perché la gente comunque guarda però facendo così stando più semplici più neutrali possibile facendo così si attira di meno l'attenzione e quindi ovviamente si riducono anche le percentuali che uno venga lì a farsi i cazzi tuoi fondamentalmente che è però sto discorso perché sto discorso perché appunto almeno sempre per quanto riguarda me io riporto le mie esperienze sperando di essere di condivisione o far scaturire dei ragionamenti almeno per quanto riguarda me come tutti i miei video parlo solo di me praticamente nel momento in cui faccio le cose ho bisogno di farne una alla volta quindi ovviamente sarò molto disturbata se ci sono cose che si muovono visi che si girano rumori strani musiche tutto in un tratto musiche cioè io ho bisogno di uscire vabbè non solo di uscire anche quando sono a casa ho bisogno di fare una cosa portarla a termine nella più tranquillità possibile e basta quindi il discorso non è questo che dà fastidio perché uno guarda a parte che per me è mancanza di rispetto a prescindere se stai lì a fissare tre ore però ovviamente per far capire appunto questo discorso per concludere che non è il fatto che non voglio che nessuno mi guarda perché nessuno si deve permettere di posare gli occhi su di me cioè non è questo il discorso è il discorso proprio perché io ho bisogno di fare una cosa alla volta quindi se io devo fare una cosa che si trova qua e tu sei davanti e ti giri e mi guardi due o tre volte cioè mi dai fastidio io devo fare quella cosa lì e tu mi sei di ostacolo perché ovviamente la mia attenzione sarà anche a capire ma che cazzo vuoi?